Ciao a tutti, sei pesante e bisognosa, come evitare di essere lasciata? In questo video voglio spiegarti come correre ai ripari, se ti sei dimostrata pesante, bisognosa, bisognosa di affetto, bisognosa di attenzione, per evitare di essere lasciata, perché è inevitabile che un uomo, quando ha a che fare con una donna pesante e bisognosa, non potrà far altro prima o poi, ma più prima che poi, di lasciarla. Nel frattempo, seguimi sulla pagina, iscriviti al canale, se non l'hai ancora fatto, attivando la campanella, così riceverai le notifiche di nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, e ti ricordo che sul canale sono disponibili gli abbonamenti, ci sono diversi livelli di abbonamento, di sostegno al canale e anche l'abbonamento seminario online. Se ti abboni al seminario online, potrai partecipare, diciamo così, ai seminari online che faccio mensilmente, diciamo così. Allora, e veniamo al tema. Veniamo al tema. Allora, se ti sei dimostrata bisognosa e pesante, cosa vuol dire? Beh, bisognosa vuol dire che hai bisogno di una persona, hai bisogno di affetto, hai bisogno di avere una persona vicina, perché da sola non riesci a portare avanti la tua vita, ti sembra di essere incapace di mandare avanti la tua vita, sei bisognosa di affetto, ti aggrappi, diciamo così, a una persona per essere, per sperare di poter ottenere qualcosa di buono, sperare di poter ottenere qualcosa di valido nella tua vita. Ecco, questo è quello che fa sì che l'uomo, il maschio, non possa assolutamente provare alcun tipo di desiderio, non possa assolutamente essere coinvolto con te, non possa assolutamente essere innamorato di te, non si possa innamorare e inesorabilmente ti lascerà. Ti lascerà e magari inizialmente te lo farà anche capire, cercherà di dirtelo, guarda che se continui a essere appiccicosa, a tempestare di messaggi, a tartassare, ti lascerò. Se tu continuerai, inesorabilmente arriverà quel momento in cui chiuderà la storia con te e ti bloccherà dappertutto, ti bloccherà su WhatsApp, ti bloccherà dappertutto, perché non vorrà assolutamente più avere a che fare con una rompimaroni come te. Allora com'è che puoi evitare che questo accada? Beh, intanto la prima cosa è la consapevolezza, essere consapevole che sei una rompimaroni, essere consapevole che sei, diciamo, pesante, che sei bisognoso. Ecco, nel momento in cui acquisisci la consapevolezza, devi iniziare a lavorare un po' su te stessa, lavorare un po' sull'autostima, iniziare a capire che intanto, continuando, diciamo, in questo modo, non otterrai nulla di buono, non otterrai nulla di positivo. Però spesso ci sono proprio dei meccanismi autosabotatori, per cui mettiamo in atto le cose sbagliate, perché vogliamo viverci delle emozioni forti. E questa è la vera chiave, nel senso che alla fine vai alla ricerca di un uomo che ti abbandoni, vai alla ricerca di un uomo che ti lascia, proprio per poterti lamentare, dire che sei la solita sfigata, che tutti ti lasciano, che nessuno ti vuole, e viverti questa emozione, viverti questa emozione forte dell'abbandono, viverti questa emozione forte dell'essere lasciata, dell'essere abbandonata, del non essere presa in considerazione. Ecco, quindi paradossalmente, se sei consapevole di questo e continui sempre ad essere pesante, ad essere bisognosa, lui si staccherà, si romperà le scatole, ma ripeto, il lavoro che devi fare è prevalentemente su te stessa, quindi iniziare a capire che non puoi delegare a un'altra persona la tua felicità e la tua infelicità, non puoi delegare a un'altra persona le tue vettovaglie emozionali, quindi devi essere in grado da sola di procurarti delle emozioni, devi essere in grado da sola di saperti dare delle emozioni, perché se non sei in grado di fare questo, se non sei capace da sola di darti delle emozioni, non andrai da nessuna parte, cioè riceverai soltanto degli schiaffi, riceverai soltanto tra virgolette dei pugni in faccia, cioè nel senso emotivi, quindi questa è la cosa che devi iniziare a fare, quindi devi iniziare a viverti intanto l'abbandono, far conto che questa persona ti abbia lasciato, iniziare a vivertelo proprio nella tua mente, visualizzare che questa persona ti lascia, visualizzare che questa persona ti abbandona, in modo tale da anticiparti delle emozioni. Puoi anche, diciamo, vedere proprio che questa persona ti lascia, vedere proprio che questa persona ti abbandona, non per, uno dice, ma se così vado a visualizzarmi questo, faciliterò che questo avvenga, ma più che altro qua non è il fatto di costruirsi la cosa, è il fatto di darsi da subito l'emozione dell'abbandono e vivere come se percepire in questo preciso momento qui ed ora la forza dell'emozione dell'abbandono, in modo tale da non avere più la necessità di mettere in atto delle strategie per farti abbandonare, perché in questo caso le persone pesanti e bisognose lo fanno solo per essere abbandonate, quindi tu gli somministri qualcosa alla tua parte emotiva in anticipo, in modo tale che non abbia più tutta questa fame, diciamo, di viversi l'abbandono, un po' come dire, hai tanta fame di ravioli, ma io te li do già, e a livello immaginativo, certo, non sono mai quelli, diciamo, reali, però poi nel frattempo devi immettere altre emozioni, quindi questo è l'aggancio per far capire alla tua parte emotiva che gli puoi dare emozioni, nel frattempo gli devi dare altre emozioni, quindi fare altre cose, fare altre cose soprattutto senza questa persona, cioè imparare a darti emozioni senza questa persona, che può essere far qualunque cosa, qualunque cosa che ti piaccia, ma senza questa persona, in modo tale che trovi nuove fonti di approvvigionamento emotivo e automaticamente ti verrà facile fare quello che devi fare, cioè mantenere il distacco da questa persona qua, mantenere il distacco vuol dire prendere le distanze, vuol dire anche frequentarne altre, mettere degli antagonisti, insomma, prendere le distanze, diventare più desiderabile, perché l'unico modo per essere desiderabile è essere centrata su te stessa. Ripeto, questa è l'unica variabile da tenere bene sotto controllo è il tempo, perché se tu non fai queste cose qua per tempo, diciamo così, rischi di prendere poi delle grandi cantonate e rischi poi che la persona ti lasci, e se arrivi a lasciarti, poi diventa tutto più difficile da recuperare, perché dovresti iniziare a fare, dovresti iniziare a fare no contact se ti lascia, dovresti iniziare a far passare del tempo, e quindi servirebbe a quel punto lì tutto, diciamo, tutta una serie di cose che allungherebbero molto i tempi, quindi alle prime avvisaglie in cui lui ti fa capire che sei troppo bisognoso, sei troppo rompipalle, sei troppo pesante, sei troppo tartassante, devi iniziare dalle prime avvisaglie ad allontanarti, dalle prime avvisaglie devi iniziare a sganciarti, e ripeto, l'unico modo per fare questo, in modo positivo, è quello di non diventare, diciamo, una persona emotivamente vuota, emotivamente spenta, quindi questo è l'unica cosa che devi fare, e tenere presente che se capita questo, è dovuto proprio al fatto che la tua sfera emotiva si sta nutriendo del male e non del bene, si sta nutriendo di emozioni negative e non positive, ma questo lo fa perché tu non ne dai altre, e quindi probabilmente un imprinting di un vissuto forte dell'abbandono ti spinge a fare questo, quindi è una qualcosa che succede abbastanza frequentemente, e bisogna imparare a sbloccare questo meccanismo perché rovina comunque di colpo l'esistenza, insomma. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, attivando la campanella, così riceverai la notifica di nuovi video, e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, e ti ricordo che sul canale sono disponibili gli abbonamenti, da semplici abbonamenti di sostegno al canale, fino a seminari, l'abbonamento seminario online, che ti permette di partecipare ai miei, ai seminari online che faccio messi in mente.